La Costa Magna non è garantista, è a prioristica. Vorrei dire tre cose. La prima, partiamo dalla frase di un signore del popolo che dice, meglio andare in galera che al cimitero. Ora, siccome tu quando hai quattro persone che entrano sia pure nel ristorante, non puoi sapere se sono armate e sono quattro a uno e sono otto a uno perché sono 67 anni a 30, cioè un giovane che ti può picchiare e sei visto il livido, mi sembrerebbe strano che tu scendessi col fucile scarico, scenderai col fucile carico cercando di vedere... Posso finire? Posso finire? Posso finire? Allora, io non sono obbligatore e vorrei finire, ma non ho niente contro di te, ma non sono interessato a fare una polemica. Sto dicendo che la tua esagerazione è questo. Come cazzo fa un giudice a dire omicidio volontario? Come fa a dirlo se non contro un cittadino che si difende? Hai visto i limiti? Quello è stato provocato, potevano essere armati, quello ha sparato per volontà, ha detto per intanto che è partito un colpo perché è intimidito da una legge che è contro le vittime e ha favore invece dei criminali. Tu poi dirai non erano armati e chi ti l'ha detto a te che non erano armati? Gli hai seguiti tu? Allora, lui ha fatto il minimo che poteva fare, non voleva ucciderlo, ha sparato e ha sparato per difendere se stesso, la sua famiglia e i suoi beni. I ladri vadano per i cazzi loro, vadano a fare un bagno, non vadano a casa altrimenti e il magistrato vada a cagare. Omicidio colposo si chiama, omicidio preterintenzionale, omicidio volontario è l'accusa che sa a priori quello che non è ancora dimostrato. Si vergogni quel magistrato, si vergogni e impari a rispettare le vittime, gli anziani, le persone che non ha lavorato, a casa loro. L'hai scritto nel registro degli indagati. E quanto a te, quanto a te Telese, uno che va in un bene breakfast è una cosa giustamente indicata, ma questi quattro che erano lì, le intenzioni le avevano, lo mostro in braccio di quel signore, che è stato ferito già da loro e ha fatto poco a uccidere uno solo. Doveva inseguirli e prendere il calcio del culo. Sì, ma noi diciamo queste cose, Vittorio, ma poi nei processi, scusate, nei processi che finiscono per gli che sparano, Vittorio tu non spareresti mai, tu non sei armato, perché devi dire alla gente che può sparare? Non lo stai aiutando! Non lo stai aiutando! Andava lì a farsi uccidere, scendeva disarmato, scendeva da quattro che potevano avere un calacimo. Cosa faresti tu? Se noi diciamo alla gente che sparare è un gioco, se uno prova a entrare a casa mia, nel momento in cui entra a casa mia, io ho diritto di fare di lui quello che voglio. Stia a casa sua, io a casa sua non ci vado. Uno che vuole rubare merita di avere qualunque azione per difendere le cose tue. Se è a casa tua, mandiamo uno a casa della Costa Magna, poi siccome, poverino, lui non è armato, la violenta, la tortura, dice beh, poverino, aveva le sue intenzioni. Difendersi è lecito, non ho detto uccidere, difendersi. Scusate, rispetto al procuratore di Lodi dobbiamo fare un attimo una precisazione. Finché c'è questa legge, sarà normale che ci saranno questo tipo di iscrizioni. Quindi noi dobbiamo cambiare la legge. Io la penso esattamente in questo modo, chi entra a casa di qualcuno è come se accettasse proprio il rischio anche di essere ucciso e quell'accettazione implica questo. Però il procuratore, per ora, deve fare questo. Bene, sono completamente in disaccordo, ma qua si danno già le sentenze, per cui va bene così. Allora, ci fermiamo per la pubblicità, senza amminacciare nessuno. È legittima difesa, non è un uccidio volontario. Scusa, andrà a parlare immediatamente dopo. Pubblicità. L'avete visto? L'avete visto? Un tore.